Dov'è che le cose del mondo e della natura si possono trasformare in disegno, in forma, in colore per trasformarsi in arte? Qua dentro. Qua dentro le persone seguono l'istinto, seguono il sogno, seguono la visione. Io sono qui perché ho la necessità di imparare a disegnare, proprio come un'esigenza anteriore. Per me l'arte è una ricerca e la ricerca la sto facendo sui ritratti. Perché in Brianza? Perché la tradizione viene portata avanti grazie ai bravi e ibanisti che hanno portato avanti un lavoro, un saper fare e l'hanno tramandato ai loro figli. Cultura, persone che hanno mantenuto nella loro esperienza alta la guardia nei confronti della tradizione e persone più giovani che hanno potuto apprendere. Io ho trovato tante ragazze qui motivate e anche bravi, disposti a sacrificarsi per imparare. Io la chiamo, l'intaglio la chiamo sensibilità, è una cosa che esce dal cuore proprio quando è fatto con amore. Questa è la fabbrica dell'arte, questa è la fabbrica del sogno. 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 Grazie a tutti.